Ciao a tutti dai, ci sono Niji, siamo in un nuovo video di Minecraft nella vanilla di Minecraft Ma, ma, ma il mio video era con The Rock, tu da dove sei uscito? Guardalo, stiamo facendo un video, chiunque, chiunque, via, apposto Chi poteva essere a quest'ora? Siamo te, Aaron Cibo, dai, cibo, mi serve cibo Ah, cibo, tieni, via No, te l'ho dato il cibo, tieni, pide il cibo Quest'oggi facciamo la farm di polli nella vanilla Che è una, cioè, praticamente, dopo un mese della vanilla, ci rendiamo conto che bisogna fare una farm di cibo Sì, infatti No, perché siamo troppo intelligenti Siamo talmente disperati da mangiare i cioros Sì, sì, questa cosa è vera Allora, iniziamo con mettere la cassa È piccolo questo, subito No, 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 mettiamoci un cescule No, no, basta, cioè, non serve troppo Stom slab E ci va qui il No, ho sbagliato Aspetta No, no, faccio così Ok, così Leviamo il blocco Mi serve, mi serve un altro Vai a me a fare un hopper Vai a me a fare un hopper Nel suo tempo io finisco qua Allora, qui spolerà il pollo Quindi lo ricopro di vetro Perché lo voglio vedere il pollo io quando muore Cioè, ovviamente Lasciamo stare Che poi mi banno nel video Per Perché Incisione di polli No, no Per Come si chiama Insultamento Incitamento alla violenza Vabbè, allora Qui ci va la lava E adesso Ce l'ho la lava Sì Vabbè, nel caso non ce l'ho La vado a prendere Sta là la farm Come ci arrivo io là Ce l'hai la lava Ce l'hai la lava Ce l'hai la lava Nella cassa Così E qua quando spola il pollo Fuck rock Hai ferro ninja nelle casse? Oh no Cosa ci provi Proprio zero E lo andiamo a rubare da massimo Ora Speriamo che non vedo il video Devo Fare un meccanismo qua dietro Che Allora Bisogna mettere Un comparator qua Che così Quando No, non devo metterlo qua Devo metterlo Il comparator Devo metterlo Sì, sì Devo metterlo qua Così quando arriva l'uovo Qui Spara Poi bisogna fare Così E bisogna mettere questo qui così Poi qui così Adesso non ce l'ho già nell'inventario Poi così Così, così Così Adesso mi sa che ho sbagliato Perché devo fare tutto di uno più in alto Eh sì Che devo farlo Che arrivava qua Sì Quindi devo mettere Comparator Qua Questo qua Massimo non ha ferro Io non ha ferro Questo devo metterlo No, devo metterlo qua Qua così Qua così, qua così Perché c'è un display di diamante? Così Non lo so comunque Adesso ogni volta che qua ci andrà l'hopper L'altro hopper Che in pratica farà andare Aspetta, c'è un bel vetro? Farà andare le uova che le galline fanno Dentro il dispenser Però adesso Mi serve un blocco di vetro da mettere Qua Qua adesso devo fare una cosa veloce veloce Perché poi cade la lava Quindi, ok Qui devo mettere Ok, ok, ok Sì, sì, sì C'ho tutto pronto Nel frattempo che tu arrivi Eh, ma non trovo del ferro Perché siamo tutti poveri C'ho anche l'altra zona O dei polli Che qui andranno i polli Ora come salgo io Eh, questa è una domanda Difficile da rispondere Così E qui ci andranno I polli Allora, lì Ci devo mettere il dispenser Che non è ancora fatto Vai a prendere i 5 di ferro A casa tua Cioè, che ci vuole No, ce l'ho, ce l'ho Ce l'ho, ce l'ho Allora Allora Pane Sì Ma stai da te? No Allora, un attimo Che è uscito questo schedo Perché ti ha fastidio Beh, non c'è nessuno Che ha un pezzo di ferro In croce Uh, ascolto Con un utilizzo Sette utilizzi Scherzai Sto, io sono misero Vabbè, vieni a rubarlo da te Ho capito Vado io Sto già a casa tua Non perché volevo già rubartelo Vai, ma Ho un pezzo di ferro Prendene qua Va bene Perché gli hai rubato quel pezzo Ma ne hai tre Ma non ci credo Andiamo a scavare il ferro E rieccoci dopo Un po' di tempo Che siamo andati a scavare il ferro Simone è crashato Ma io c'ho l'hopper Quindi a posto Può anche crashare Ora, devo spaccare questo E metterci l'hopper Preciso così E adesso Devo prendere le uova E sperare che spawnano i polli Ne ho dodici Speriamo che almeno uno spawni Beh, poi Le vado a prendere le altre Non è che soltanto queste Le vado a rubare da Massimo Però Dai, manco un pollo Veramente Ma veramente Sì, ma mi hanno appena scammato 12 uova Nemmeno un pollo Sì, l'ho vista Perciò si fa rubare a casa di Massimo Le uova Cioè, ovviamente Nel senso Sì Datemi le uova polli Tutte Tutte le uova Ho detto Avete soltanto due uova Sono uscito direttamente Aspetta Oh, sì Apposto Vi tappo E torniamo a casa Due uova, dai Diciamo che Con 12 non è uscito niente Con due dovrebbe uscire qualcosa Ovviamente Eh, sì, no? Così funziona Minecraft Riesco a saltare qua, no? Ci vediamo quando ho formato le uova Ed eccoci Dopo che ho formato un altro paio di uova Ho fatto già sponare due polli Con praticamente quattro uova Quindi Sì Cioè È il video che mi porta sfortuna Ok? Non sono io Adesso C'ho un altro paio di uova Vediamo se me ne sponano qualcun altro Ok Uno Uno è sponato Due Tre Ok Ci abbiamo cinque polli qua dentro Eh Bastano? Sì Cioè In verità più ne mettete più farma Quindi Non bastano mai Però sì Ora Qui è tutto apposto Quel circuito Appena crescono Dovrebbero fare le uova E dovrebbero iniziare a funzionare la farm Ehm Purtroppo Sono Ci mettono 12 anni per crescere Questa con i semini Non crescevano prima Questa cosa non me la ricordo Aspetta Fai provo a darmi Devo dargli due semini Ho della Ma ho preso la Ah ok E vabbè Come salgo Da qua Crescete No Posso Non crescono Vabbè Mi ricordavo male Beh comunque Per questo video è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Da ninja è tutto Ciao 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 Ciao